Francesco Chiusa, combattente del maggio 1849, cospiratore e impegnatissimo sempre per la democrazia e per la Repubblica, io lo considero il mio miglior maestro di storia di risorgimento. Perché? Perché quando viene fucilato e viene portato lungo la strada, alla folla non dice parole di pietà, dice io muoio per l'Italia, muoio per il popolo, muoio per la libertà. E mi insegna un facchino di quel tempo, un popolano, che cosa fosse il risorgimento per quella gente, quali aspettative avessi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.